Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa bellissima chiesa, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi e rileggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrisse nel 1917. Padre Pio era qui. Abbiamo qui l'epistolario di Padre Pio, il volume numero 3, che è quello dedicato ai suoi figli spirituali. Siamo in un aspetto dell'organizzazione dell'epistolario che i curatori dell'epistolario hanno dedicato individuandolo come le sei lettere. Ci sono sei lettere che non hanno un vero e proprio destinatario, anche perché sono state a volte conservate anche in modo disordinato, ma si pensa che siano state indirizzate, parte di queste lettere, alle sorelle Villani. Ecco cosa scrive Padre Pio nel 1917, nell'agosto del 1917, da San Giovanni Rotondo. Bisogna, mia cara figliuola, attentamente coltivare il tuo cuore ben formato e niente risparmiare di ciò che può essere utile alla sua felicità. E sebbene in ogni stagione ciò può farsi, questa però, nella quale sei, è la più propria. Ah, che le è una grazia singolarissima, mia diretta figliuola, cominciare a servire questo grandio, mentre che la floridezza dell'età ci rende suscettibili di qualunque impressione. Oh, come il dono è gradito, allorché si offrono i fiori coi primi frutti dell'albero. Tieni sempre ferme in mezzo al tuo cuore le risoluzioni che Dio ti offre, quando sei davanti a Lui, da presso a me, poiché se tu le conserverai in tutta la tua vita mortale, d'esse ti conserveranno nell'eterna. Quindi, quei raffreddori di spirito che vai alle volte sperimentando non ti debbono né meravigliare né abbattere e sconfortarti, purché tu abbia un vero desiderio del fervore, purché non lasci, per effetto di tali raffreddori spirituali, i tuoi santi esercizi. L'anima procede bene e serve ed ama Dio a proprie spese con amore disinteressato. Vivi tranquilla, per carità, non temere la divina operazione. Grazie a tutti.